Eccoci, buonasera. Ci sono giornate in cui potremmo parlare di mille argomenti, ma ce n'è uno che li sovrasta a tutti. Poi un argomento che attraversa, che oltrepassa le generazioni nella nostra comunità, che ci riporta a un passato recente o anche lontano. Quando ciascuno di noi ricorda un pezzo di chi fa notizia, quello è un momento particolare. Questo pomeriggio praticamente tutti abbiamo saputo nell'arco di pochissimi minuti la stessa notizia, che era quella della morte a 78 anni di Raffaella Carrà. Raffaella Carrà è un pezzo d'Italia, è un pezzo d'Italia, usare il passato adesso è veramente insensato, è e resterà un pezzo d'Italia. E per di più le capita in sorte, le capita in sorte, di essere come gli eroi dei romanzi, dei fumetti, dei film, cioè di non invecchiare mai. Se n'è andata, ma noi avremo sempre quell'immagine, avremo per sempre quell'immagine radiosa e sorridente, insieme a melodie che sono state, qui si dice sempre una sorta di luogo comune, la nostra colonna sonora. Ma sono stati momenti che hanno scandito pezzi della vita associata di questo Paese. E anche quando invece di cantare o di presentare grandi programmi di varietà televisivo, come si diceva una volta, era alla guida di veri e propri talk della fascia meridiana, come si dice, quella attorno ai telegiornali del luna e del luna e mezzo, trovavamo una Raffaella Carrà che era al passo con tutti gli argomenti, con ogni tipo di ospiti, anche quelli politicamente o culturalmente impegnativi. Una donna del nostro tempo che è stata tante cose anche, un'icona dell'Italia nel mondo, un'icona sexy nel mondo, perché non dire questo aspetto, e anche un'icona gay nel mondo, come ben sappiamo, è stata adottata come vera e propria icona. E tutte queste cose oggi si riversano nella notizia conclusiva della sua vita terrena, salutata da tutti, veramente da tutti. È l'era dei social e quindi non bisogna aspettare le dichiarazioni sui giornali o attraverso le agenzie o attraverso la televisione. Sui social abbiamo già letto dal Presidente della Repubblica fino a Celentano, a Vasco Rossi, a qualsiasi figura, non solo italiana, un saluto sempre accorato, sempre sentito a lei, a Raffaella. Ci sono anche le altre notizie, ma per una volta le scopriamo tutti insieme, tra 30 secondi dai titoli. Ben andata, Raffaella Carrà, mezzo secolo di storia televisiva, un'icona per tanti, per tantissimi, simbolo di bravura, professionalità, eleganza, stile. Difficile porre confini nel delineare il suo personaggio. Su Brett, si diceva una volta poi ballerina, attrice, cantante e conduttrice. Ha rappresentato un volto, il migliore dell'Italia, quello più ottimista e quello anche più inclusivo. Se n'è andata in silenzio a 78 anni. Difficile trovare qualcuno, oggi poi impossibile, che non l'abbia apprezzata o amata, dai più giovani ai suoi coetanei, a chi è più grande di lei. La ricordano da tutto il mondo, là dove è tanto amata, in Sud America, ma anche in Spagna e in Russia. Le rendono omaggio in Italia a tutti, praticamente, il presidente Mattarella, la politica, ognuno la tira dalla sua parte, ma anche il Vaticano e gli artisti che l'hanno incontrata in questi decenni di carriera. Maggioranza sempre più divisa sul disegno di legge ZAN contro l'omotransfobia. Il tentativo dei Renziani di trovare un compromesso, cambiando alcuni termini, tornando a quella che era la proposta di Ivan Scalfarotto, non ha trovato evidentemente il consenso nel PD e tra i 5 Stelle, che tirano diritto. Così come non si dà credito all'ennesimo tentativo di Salvini, ma il rischio è che il provvedimento non abbia i numeri in Senato. E restando la politica, il nostro sondaggio del lunedì, la Lega di un decimo si riprende, il primo posto, ma è un testa a testa con fratelli d'Italia. Lieve flessione per il PD, mentre il conflitto tra Conte e Grillo penalizza molte 5 Stelle che perdono terreno. Ma abbiamo anche chiesto come andrebbe se ci fossero insieme il Movimento 5 Stelle e un partito di Conte. Vedremo. Da 13 anni lo Stato ha promosso l'efficientamento energetico. Con l'acquisto di caldaie meno inquinanti e l'utilizzo delle pompe di calore, il cittadino può farsi rimborsare fino al 65% della spesa, detraendola dalle tasse, ma in 10 anni. Il credito d'imposta introdotto lo scorso anno permette di avere subito dal venditore lo sconto del 50%. Se la decisione ha rivitalizzato il settore, l'impennata dei prezzi peserà anche sullo Stato, che rischia di lasciare un buco nel bilancio di quasi 500 milioni. Ne parla nel suo Data Room Milena Gabanelli. Allora, come avete visto, c'è un fatto che, come si dice in questi casi, se li mangia a tutti. E' la morte di Raffaella Carrà. E' una di quelle creature che nascono di rado e che spuntano di rado nelle società, nelle nazioni, nei sistemi paese, per unificare soprattutto. Non che sia il loro scopo, ma è quello che evidentemente ottengono. Perché non c'è persona che oggi non sia stata colpita di infilata, mostrandone poi i contraccolpi di incredulità e anche di dispiacere e commozione per la notizia della sua morte. E' stata improvvisa la notizia. Perché c'era stato un silenzio totale riguardo al fatto che, appunto, Raffaella Carrà avesse una lotta in corso contro un male, che evidentemente è se l'è portata via. Di questo sappiamo poco, ve lo dico subito, non ci saranno ulteriori elementi nel telegiornale. Sappiamo dal messaggio che ne ha dato Iapino, che è stato al suo fianco anche in questo tratto finale della sua vita. Sappiamo, appunto, che non c'è più, che se n'è andata. E però, se possiamo, andiamo subito a vedere, prima di vedere, di ricordare cosa è stata, chi è stata, chi è Raffaella Carrà e sarà per tanto tempo. Partiamo per una volta dalle reazioni, perché questo ci fa capire quanto forte, e non solo in Italia, sia stato il fenomeno Raffaella Carrà. Bisogna forse risalire alla scomparsa di Luciano Pavarotti per trovare una forza d'urto di reazioni internazionali come quella che sta provocando la morte di Raffaella Carrà, famosissima e amata dopo l'Italia praticamente in tutta l'America Latina, e non solo. È morta la diva del pop italiano, scrive il quotidiano argentino Clarín, che guarda caso ripesca la reciproca simpatia per l'icona nazionale scomparsa di recente. Diego Armando Maradona, tra i due c'era infatti una grande amicizia che qualche gossip voleva si fosse spinta oltre. La regina della televisione italiana, dicono i giornali spagnoli, che vedono in Raffaella l'archetipo della simpatia del mondo latino per la musica del nostro paese, come ben sanno Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Il cordoglio della politica copre tutto l'arco costituzionale, come si sarebbe detto un tempo, e arriva persino oltre Tevere, dove il cardinal Gianfranco Ravasi, a suo agio con le nuove tecnologie, si lascia andare a questo tweet, ma che musica maestro, viva, 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 ripescando sul finale il suo status religioso, requiesca in pace. Il sacro e il profano dunque a celebrare il caschetto italiano più famoso nel mondo, da Vasco a Berlusconi, il cavaliere però su Facebook, da Draghi al disc-jockey francese Bob Sinclair, che rimixando un suo famoso brano, poi ripreso nel film La grande bellezza di Sorrentino, ha sdoganato Raffaella al mondo dei millennial. Nel mio cuore, scrive, sei sempre regina, te amo. Il santo subito, l'invocazione del popolo al funerale dei papi più amati per l'immediata canonizzazione, nel caso di Raffaella, in epoca di social e di europei di calcio, si materializza con la massiccia richiesta su Twitter di far giocare domani la nazionale italiana con il lutto al braccio nella partita contro la Spagna, in alternativa di far inginocchiare gli azzurri e perché no, suggerisce a qualcuno, anche gli spagnoli che in fin dei conti tanto l'hanno amata. Ma al di là di questo, chi è stata, cosa è stata, cosa è, cosa resterà? Raffaella Carrà per tutti noi. Difficile dire addio a chi ha rappresentato la storia televisiva del nostro paese perché Raffaella Pelloni, nata a Bologna in arte Carrà, è stata qualcosa di più, icona e simbolo di un'Italia che raccoglie in una sola persona bellezza, bravura, intelligenza, simpatia. Esordio da attrice negli anni Sessanta, fra cui un film con Frank Sinatra, poi subretta, ballerina, cantante, conduttrice, per tutti poteva essere solo Raffaella o semplicemente la Carrà. Una carriera che si intreccia inevitabilmente alla vita di ciascuno di noi perché è trasversale ad ogni età, dai bambini agli adulti, ma soprattutto capaci di attraversare dagli anni Settanta in poi i confini nazionali in un'epoca nella quale la globalizzazione dei social era a dir poco fantascienza. Un cammino sempre in crescendo a cominciare da canzonissima quando c'era il monopolio Rai e la TV era in bianco e nero. Poi l'avvento del colore che non cambia la raffa nazionale ma la fa diventare è ancora di più protagonista di un modo di entrare nelle case degli italiani. La sfida degli anni Ottanta è quella con la concorrenza delle TV private ed ecco ritrovare dagli archivi il suo pronto Raffaella che all'ora di pranzo è stata capace di miscelare alle sue doti ancora di più. Un mix fra musica, salotto, telefonate. Chi mai potrà dimenticare quel gioco ad indovinare i fagioli contenuti in un barattolo? Una sfida che la Carrà vince tanto ad arrivare poi è la conduzione di un altro storico appuntamento Rai, Domenica Inni. Ma se i successi televisivi la porteranno anche sulle reti Fininvest per una breve parentesi, sarà negli anni 90 che Raffaella Carrà scriverà una delle pagine più forti a livello emotivo con un varietà dal sabato sera dalle emozioni intense. Carramba che sorpresa! Perché Raffaella regalava al suo pubblico non solo familiarità ma anche il gusto delle emozioni, delle lacrime e dei sorrisi. Eppure la musica è stata la vera grande anima della sua carriera. Brani come Rumore o Forte, Forte, Forte hanno venduto milioni di copie e le hanno valso premi a livello mondiale. Ecco, proprio questa sua internazionalità la fa diventare senza dubbio una regina dello show business in tutti i continenti dal Sud America all'Asia. Un successo che la porterà nel 1986 sugli schermi degli Stati Uniti in una indimenticabile puntata del David Letterman Show il programma più visto d'America. Una vita privata che i rotocalchi hanno spesso raccontato senza eccessiva enfasi. Il suo legame con Gianni Boncompagni poi quello con Sergio Iapino coreografo e ballerino compagno di una vita. Scompare l'artista ma non la sua straordinaria carriera artistica che ciascuno di noi custodirà per sempre. La mia vita è una roulette i miei numeri e tu le sai il mio corpo è un amochetto dove tu ti addormenterai. C'è anche il resto del telegiornale ma verrebbe da risentire da riascoltarla e tutto il resto poi si fa un po' più piccolo come sempre accade a fronte di qualcosa che un pochino ci ha spiazzati e comunque che ci coinvolge tutti. Chi l'ha conosciuta direttamente chi l'ha conosciuta soltanto dalla televisione o chi l'ha conosciuta attraverso la sua voce le sue canzoni verrebbe da cantare ma che musica maestro invece dobbiamo andare dobbiamo andare avanti e parlare però di qualcosa su cui Raffaella Carrà è stata in qualche modo un precursore perché perché è sempre stata definita attenta a tutti i diritti e un'icona gay e proprio in questo giorno in cui ci lascia Raffaella si torna a parlare di quel braccio di ferro sulla legge che prende il nome da Zan e che come si sa è contro l'omotransfobia utile compromesso come dice Renzi ricerca di un testo condiviso come propone Salvini o trappole e tradimento come paventano PD, Leo e 5 Stelle sulla legge Zan contro l'omotransfobia si va nelle prossime ore allo showdown dentro la maggioranza al Senato Matteo Renzi con la sua Italia Viva dopo aver firmato e votato la legge alla Camera ora ha presentato emendamenti sui punti più controversi via il concetto di identità di genere via la definizione di stigazione al reato autonomia scolastica sulla giornata di lotta all'omotransfobia da ricordare nelle scuole cambiare la legge Lega e Forza Italia si dichiarano d'accordo Fratelli d'Italia non la voterebbe comunque vuol dire farla tornare alla Camera del resto nel caso certo di voti segreti la maggioranza sarebbe molto risicata e a rischio potrebbe saltare tutto e si dovrebbe ripartire da zero Renzi dice trattiamo e ricorda i 5 Stelle inaffidabili sull'unione civili così come i dubbi nel PD che potrebbero affossare la legge Salvini dichiara che senza elementi ideologici lui ci sta ad aumentare le pene a chi odia e fa violenza contro i gay il PD ma anche i 5 Stelle che si proclamano uniti accusano Italia Viva di intelligenza con il nemico la politica andare in Parlamento è cercare di trovare gli alti e nobili compromessi purtroppo per fortuna è così diffidate di chi punta a prendere i like e non porta a casa le riforme l'obiettivo è la riforma non è il like spero che l'etta e il PD non insistano nella loro strada solitaria perché rischiano di affossare totalmente definitivamente la legge siamo stanchi dei vota faccia di Renzi vuole mandare messaggi di intesa alla destra sta scegliendo Salvini l'amico di Orban non sta facendo un rispetto al PD si assume la responsabilità così di affossare una legge di civiltà che il paese sta chiedendo a gran voce domani mattina ci sarà il confronto finale nella riunione dei capigruppo di maggioranza nel pomeriggio in aula si voterà il calendario salvo un'improbabile intesa e favorevoli al testo attuale voteranno per l'esame del provvedimento dal 13 luglio Italia Viva dice che si adeguerà e voterà alla fine con il PD ma se poi si andasse sotto da M5 Stelle darebbero la colpa a Renzi lui ha la testardaggine del PD che tra l'altro poco si fida della parola di Matteo Salvini come tutti i protagonisti che avete visto in questo servizio anche il presidente Mattarella ha reso omaggio alla figura di Raffaella Carrà con parole inusuali ovviamente Mattarella era a Parigi dove c'è stato un incontro importante tra lui che è il capo del nostro Stato e Macron ma non c'è stato solo questo prima visita di Stato del presidente Mattarella dopo la lunga pausa causata dalla pandemia destinazione Parigi accoglienza speciale all'Eliseo una scorta di 150 corazzieri a dimostrare il forte legame l'intesa la cooperazione e l'impegno in sede europea su recovery plan sui migranti sulla necessità di trovare una soluzione non emergenziale di accoglienza e redistribuzione tra i paesi membri ed è nel suo discorso alla Sorbona che il presidente approfondisce il tema dell'immigrazione ferita ancora aperta della coscienza europea alla pandemia abbiamo saputo dare una risposta europea alla crisi economica altrettanto ma alle migrazioni ovvero al tema che in grande misura oggi interpella i nostri valori non siamo ancora riusciti a dare una risposta adeguata efficace e comune donne bambini uomini in fuga difficilmente possono essere individuati come un nemico dice guarda il passato dell'Europa non possiamo pensare che a scrivere la storia siano i canoni obsoleti del sacro egoismo delle ottocentesche rivoluzioni nazionali e guarda al futuro le solenni decisioni assunte da ciascun popolo al momento dell'adesione al progetto non possono essere contraddette se non apprezzo della drastica decisione dell'abbandono serve chiarezza dice il discorso era programmato da tempo ma inevitabile non leggerlo pensando alla legge approvata dal Parlamento ungherese contro la promozione dell'omosessualità voluta da Orban contro la quale si sono schierati molti capi di governo dell'Unione Europea e all'iniziativa dei 16 leader sovranisti inclusi Salvini e Meloni negli scorsi giorni oggi sono le sfide del mondo globale a esigere una presenza europea all'altezza delle sue responsabilità diversamente dice Mattarella i diritti e la prosperità potrebbero divenire in futuro anche per noi europei un ricordo domani ci sarà la visita al milite ignoto l'incontro con la sindaca di Parigi e il premier Jean Castex lo strappo di tre anni fa con Luigi Di Maio che solidarizza con i gilet gialli e l'ambasciatore francese in Italia richiamato in patria sembra acqua passata parliamo ancora di politica però perché perché come si sa infuria ancora la guerra intestina nel Movimento 5 Stelle anche se ci sono i sette mediatori all'opera e nel giorno lunedì che per noi è il giorno dei sondaggi dei risultati dei sondaggi abbiamo chiesto attraverso SVG agli elettori del Movimento 5 Stelle come la pensassero il risultato è molto netto e quindi è interessante ancora di più farvelo notare vediamo insieme in merito alle recenti vicende sulla leadership del Movimento 5 Stelle che hanno coinvolto Beppe Grillo e Giuseppe Conte con quale delle due figure lei si trova in maggiore accordo il dato è riferito agli elettori del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte 72% Beppe Grillo 7% non ho seguito la vicenda quindi non saprei esprimere 16% preferisco non rispondere 5% questa questa guerra intestina come impatta sui risultati per il Movimento 5 Stelle il sondaggio su come andrebbe se si votasse oggi è eloquente per il Movimento è in quarta posizione ma perde il 2% come vedete in sette giorni al 14,6 in vetta torna avanti di un decimale la Lega rispetto a Fratelli d'Italia ma forse quel che conta di più notare è che 20,6% della Lega 25% di Fratelli d'Italia e in quinta posizione 7% di Forza Italia fa il 48,1% il Partito Democratico perde lo 0,1 al 18,7% dietro ancora un decimale in più e raggiunge il 4% azione di calenda risale fino a quella posizione MDP articolo 1 e cioè stiamo parlando del partito di Speranza e Bersani subito dietro vediamo che riprende fiato anche Italia Viva che guadagnano 0,4 al 2,5% dietro di un decimale sinistra italiana di Fratelli 2,4% appunto più Europa più 0,3 2,1% Verdi più 0,3 1,8% e ancora un 1% da assegnare virtualmente alla coalizione in centro-destra Coraggio Italia Totti Brugnaro 1% per l'appunto ma noi abbiamo chiesto un'altra cosa importante a SVG di testare come andrebbe se ci fosse la scissione poi tra i 5 Stelle e Conte che farebbe come tutti sanno un suo movimento o partito come andrebbe vediamo insieme Fratelli d'Italia 20,4% vuol dire che perderebbe un solo decimale Lega 20,2% vuol dire che perderebbe 4 decimale Partito Democratico invece 16% perderebbe molto perderebbe praticamente il 2,7% vedete che il partito di Conte prenderebbe il 12,7% sarebbe la quarta forza e relegherebbe il residuo Movimento 5 Stelle al 7,1% Forza Italia perderebbe 1,07% al 6,3% azione 1,05% al 3,5% questo per quanto riguarda le prime posizioni e c'è da vedere ma si sapeva che la vittima principale di tutto questo sarebbe proprio il Partito Democratico mentre il centrodestra perderebbe complessivamente circa un 1,5% questo per quanto riguarda i nostri sondaggi prima di andare però alla pagina che è l'altra del lunedì fissa quella del data room di Milena Gabanelli ci sono due cose di cui parlare innanzitutto il Covid come è andata oggi vediamo subito i numeri attraverso la nostra grafica i nuovi casi positivi sono stati davvero pochi 480 con 74.649 tamponi molecolari e antigenici processati stabile più o meno verrebbe da dire il tasso di positività 0,6% 31 i decessi di cui però 14 registrati nei mesi precedenti ma comunicati con ricalcolo solo oggi da Campania e Toscana continua a diminuire il saldo tra ingressi e uscite nelle terapie intensive infatti come vedete nelle terapie intensive scendono a 191 i posti letto occupati nei reparti Covid-ordinari dove i pazienti ricoverati sono 1.337 c'è un paziente particolare come sappiamo al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'operazione di ieri di cui si è saputo praticamente a cose fatte Papa Francesco telecamere obiettivi sono di nuovo puntati su queste finestre Papa Francesco passerà qui al decimo piano del Policlinico Gemelli la seconda notte di degenza dopo l'intervento al colon è stata un'operazione programmata ha rimarcato la Santa Sede che oggi a mezzogiorno ha diffuso l'ultimo asciutto bollettino sulla salute di Bergoglio poche righe per dire che nelle tre ore trascorse in sala operatoria i chirurghi hanno effettuato un'emicolectomia la resezione di un tratto di intestino che il Papa in buone condizioni generali vigile e in respiro spontaneo e che la degenza durerà sette giorni insomma è andato tutto bene è la frase che tutti i fedeli non attendevano perché quando è un Papa entrare in sala operatoria tutto il mondo resta immediatica attesa evocando un nuovo significato in gesti e frasi come la richiesta di un surplus di speciali preghiere per il Papa fatta ai fedeli il 27 giugno o studiando ogni movimento dietro queste finestre diventate quasi un'icona dopo i ripetuti ricoveri di Uetiwa che non a caso parlava del gemelli come del suo Vaticano III qui Bergoglio è arrivato quasi in sordina nell'affoso pomeriggio domenicale poche ore dopo aver celebrato l'Angelus e annunciato al mondo che a settembre sarà di nuovo in viaggio dal 12 al 15 per una visita pastorale in Ungheria e Slovacchia un messaggio inequivocabile per i detrattori che sin dal conclave hanno avanzato dubbi sulla salute del futuro Papa anche se fino a questo intervento nella cartella sanitaria di Bergoglio compare solo una fastidiosa sciatalgia e un intervento al polmone subito quando aveva 21 anni per ora l'agenda resta invariata come ogni anno nel mese di luglio l'unico impegno ufficiale l'Angelus oltre ai bollettini quotidiani la principale attesa è dunque per domenica quando il Papa dovrebbe aver finito la degenza e potrebbe affacciarsi dal gemelli o forse in piazza San Pietro dal sacro passiamo al profano di un data room che però ci interessa a tutti per non peggiorare l'ambiente bisogna ridurre i consumi di energia per questo ci sono tanti incentivi del governo fra cui l'eco bonus la sostituzione di caldaie e climatizzatori con la possibilità di detrarre più della metà del costo dalla dichiarazione dei redditi in dieci anni ma dal luglio 2020 si può detrarre direttamente il 65% al momento dell'acquisto perché ci pensa chi te lo vende a farsi dare la differenza dall'agenzia delle entrate che gliele dà entro un anno bene è partita la campagna dei colossi delle multi utilities ti bussano alla porta ti offrono il prodotto e pensano loro a tutto prendiamo un buon climatizzatore reti energia te lo fattura 2000 euro inclusa l'installazione 710 ce li metti tu gli altri 1290 li incasserà dallo stato lo stesso identico modello il negozio lo vende a 440 più 250 di installazione tu ce ne metti 240 lo stato invece ci mette la differenza 450 caldaie uno dei modelli più installati in italia è Riello Residence il negozio viene sui 1100 più 500 di installazione a carico tuo 560 a carico dello stato 1040 se il lavoro però te lo fa Enigase in luce la fattura sale a 3960 euro perché la caldaia viene quotata 2911 euro qui vanno aggiunti 1050 euro di imprecisate opere accessorie e quindi a carico tuo 1396 euro a carico dello stato 2594 è chiaro che conviene fare l'acquisto in negozio ma la detrazione devi pensarci poi tu a chiederla e ti viene dato dopo 10 anni perché la maggior parte dei venditori non è in grado di anticipare soldi che lo stato gliene imborsa dopo un anno infatti non vendono più niente solo i grandi sono in grado di offrire questo servizio che ha un costo ma è normale che triplichino i prezzi secondo la legge i controlli a campione li deve fare l'Enea che valuta il risparmio energetico e l'agenzia delle entrate che eroga i contributi ma al momento non sono ancora stati fatti e non esiste un listino con un minimo e un massimo dei prezzi nel 2020 sono state installate con detrazione 171.000 caldaie e 70.000 condizionatori quasi il doppio rispetto al 2019 a cui vanno aggiunti quelli acquistati con le ristrutturazioni con il 110% per l'ambiente è un'ottima cosa per le attività che si sono rimesse in moto pure ma se lo Stato paga più del dovuto è un problema ecco buonasera Milena se lo Stato concludere così se lo Stato paga più del dovuto è un problema è un problema che può essere anche grande se quantifichiamo cosa è questo più del dovuto quantificarlo è esattamente molto difficile si può stimare se sulle vendite del 2020 sono stati applicati i ricarichi che abbiamo visto sono circa 470 milioni in più e l'Agenzia delle Entrate non è che può fare controlli diversi da quelli formali perché il legislatore non avendo previsto un tetto massimo basta che ci sia la fattura la cessione del credito la banca che avalla e l'installatore che dice tutto ok non è che può fare altro quindi puoi anche farla pagare 10 mila euro una caldaia ma da questo punto di vista ovviamente poi è l'occasione che ci fa a tutti un pochino come si dire non dico ladri però ci fa essere come dire più attenti a risparmiare noi che a far spendere lo Stato e ci vorrebbe un sistema di controlli capillare ma come dicevi non è stato previsto qualcosa di speciale no? ahimè no però c'è da dire questo se il cittadino vuole risparmiare e ha a cuore anche il fatto che lo Stato non spenda più del dovuto perché poi lo Stato siamo noi no? la grande distribuzione effettivamente per i costi di gestione della pratica comunque applicano un ricarico ma che va attorno al 20% che è ben diverso dal 100-150 che abbiamo visto quindi c'è quest'altra possibilità se poi uno volesse ispirarsi a quello che fanno gli altri la Francia fa esattamente come noi ma cosa c'è di diverso? innanzitutto la procedura è molto semplice quindi un cittadino non ha bisogno di rivolgersi al geometra per compilare la richiesta di detrazione il rimborso avviene in 5 anni non viene dato a tutti ma in base alla composizione familiare è a reddito quindi e va dal 40% al 90% quindi voglio dire trasferiamoci degli esempi degli esempi ci sono no? facciamoli fatti un po' meglio perché questi 470 milioni se così sono non ci saranno quindi bisognerà fare un ripianamento va bene ci hai rallegrato anche se c'è una magagna questa poi a cui come dire contribuiamo tutti no no hai fatto bene ho dato anche un'indicazione andiamoli a comprare da un'altra parte semplicemente invece di cedere all'attività pressante del porta a porta e questo però è anche una pigrizia perché come hai dimostrato e qui da chiudiamo se no facciamo lunga e hai perfettamente ragione hai spiegato benissimo il cittadino può risparmiare lui e far risparmiare lo Stato tutto il triangolo si compone molto meglio se non si ha pigrizia e forse anche credulineria sul fatto che si possa risparmiare noi a scapito degli altri perché poi lo Stato siamo noi ma soprattutto gli altri pro quota ma questo è educazione civica che non c'è più a scuola anche su questo potremmo tornare tutto ha un prezzo esatto la comodità ha un prezzo molto alto è così e anche però la democrazia ha un prezzo andrebbe rispettata grazie tantissime Milena grazie a voi dopo di noi ci sono ovviamente Concita De Gregorio e David Parenzo in onda con Enrico Letta ci fermiamo infine positivo frazionale per le borse Milano ha chiuso con un più 0 e 63% in questo momento a Wall Street Dow Jones più 0,44 Nasdaq più 0,81 è tutto in onda ci vediamo domani sera buonasera grazie a tutti